Ciao amici e benvenuti ad un altro video del vostro Roku Wayne, benvenuti ad un'altra mia recensione. Come vedete oggi vi recensionerò questa bellissima action figure della serie Ramses. Questa serie di action figure è stata prodotta dalla Place of Toys in collaborazione con la Hybrid Toys nel 1998. In Italia invece è stata distribuita appunto dalla mitica e grande Giochi Preziosi. Questa serie di action figure praticamente si ispira molto ai classici Cavalieri dello Zodiaco appunto dei primi anni 90 che anche quelli erano distribuiti in Italia dalla Giochi Preziosi. Quindi si tratta sempre di un personaggio che può essere vestito da una bellissima armatura sgargiante insieme appunto con un totem che raffigura il simbolo dell'armatura. Quindi questa serie ricorda tantissimo appunto i Cavalieri dello Zodiaco. Però ha una differenza questa serie con i classici Cavalieri dello Zodiaco della Bandai. Che questa serie di giocattoli ha l'armatura interamente in plastica. Invece come noi sappiamo parte dell'armatura dei Cavalieri dello Zodiaco era in parte appunto in metallo e in parte in plastica. Qua invece interamente in plastica. Ma vi assicuro che il risultato è lo stesso molto ben riuscito. Sono veramente una bellissima serie di action figure ve lo assicuro. Di questa serie appunto stile antico Egitto sono state prodotte 12 action figure appunto che raffiguravano gli eroi e gli dèi appunto dall'antico Egitto. In questo caso vi recensirò l'action figure che possiedo. Che è appunto l'action figure principale. Ovvero l'action figure di Ramses. Ramses con l'armatura del sole. Infatti qua già nella confezione possiamo notare appunto il personaggio già vestito della sua armatura. E qua appunto il totem che raffigura appunto il simbolo del sole. In basso appunto il logo della serie di questi giocattoli appunto Ramses. Con sottoscritto il nome appunto del personaggio in questione appunto. Il personaggio principale Ramses. E in basso scritte varie. E qui a sinistra il logo giochi preziosi. E sul fondo della scatola possiamo leggere qua il logo delle case produttrice. E qui a destra appunto in basso il marchio giochi preziosi. In alto il codice a barre. Possiamo vedere anche che la confezione si apre qui sul davanti. Appunto si apre questa finestra dove appunto ci mostra questa altra finestra trasparente molto sagomata. Dove appunto ci mostra già il personaggio con parte dell'armatura già indosso e parte da montare. Possiamo sempre notare il logo della serie, il faraone d'oro, 12 personaggi, appunto personaggi in questione e il logo giochi preziosi. Sul retro della confezione appunto possiamo vedere tutta la checklist di questa serie. E devo dire che questa serie contiene tanti bei personaggi da collezionare. Sia maschi che femmine. E allora vediamo l'action figure fuori dalla sua confezione. Ho levato appunto le parti, pezzi che erano già abbinate in questa action figure proprio per farvi notare com'è totalmente senza armatura. Notiamo appunto che è un personaggio abbastanza ben realizzato. E hanno fatto questi capelli così con questa riga. E' davvero carino, devo dire anche in faccia, ben realizzato. Ha questo corpo così muscoloso. La differenza appunto tra queste figure, i cavalieri dello zodiaco, è che come vedete, ha questi peg sul corpo. Appunto chiede grazie proprio a questi peg che l'armatura si inserisce. Invece i cavalieri dello zodiaco avevano i peg appunto sull'armatura e dei fori sul corpo. Questa è l'unica differenza tra i cavalieri e questo personaggio. Scendiamo un po' in giù. Vediamo che appunto ha questo gonnellino bianco con questi ricami blu. Ecco qua i piedi. Soltanto qui ha dei fori appunto dove si incastrano appunto i pezzi dell'armatura che vanno sui piedi. E anche qui diciamo sull'ombelico, diciamo sulla vita, si aggancia anche un pezzo di armatura. E appunto anche qui c'è un foro. Sinceramente non capisco perché hanno realizzato questi peg esterni sull'armatura, perché esteticamente guardato così non è bello naturalmente. Però vi assicuro che con l'armatura ha tutto un altro aspetto. E quindi questo era l'action figure di questo personaggio. Allora, ha tantissime articolazioni, ha rotazione sulla testa, rotazione nelle braccia. Le braccia si possono anche allargare, c'è rotazione anche qui sul gomito e anche piegamento. C'è anche un piegamento all'incontrario, però naturalmente questo è per le fratture multiple. E allora, le gambe possono fare un quarto di giro, anzi neanche un quarto, proprio un accenno, diciamo. Si possono un po' divaricare. C'è punto di snodo appunto nelle ginocchia. E punto di snodo qui sui piedi. Possono andare un po' su e giù. Ed ecco il personaggio vestito della sua armatura. Guardate com'è bello. Naturalmente non è tutta la sua armatura. Manca ancora l'elmo, la spada e lo scudo. Guardate com'è bello, veramente. Veramente bellissimo. Fantastico, veramente. Guardate qua il retro, com'è bello. Con queste ali, così. Devo dire che fa davvero la sua bellissima figura. Ed ecco qua, amici, il nostro Ramses con il suo elmo e con la sua spada. Guardate com'è bello. Fantastico, veramente. Davvero, davvero ben realizzato. E c'è da notare anche un'altra cosa. Vi mostro anche il retro. Guardate com'è bello. Tutti questi disegni. Fantastico. E vi dico anche un'altra cosa. Che il totem, appunto il simbolo della sua armatura, in questo caso il sole, diventa un bellissimo scudo. Davvero, davvero fantastico. Veramente un vero spettacolo. E quindi, amici, questa era la mia recensione dedicata a questa bellissima action figure distribuita appunto dalla Giochi Preziosi, prodotta dalla Playsoft e Hybrid Toys del 1998, che misura un'altezza di circa 13,5 cm. Sì, sono molto più alti dei classici Cavalieri dello Zodio, appunto, dei primi anni 90. La differenza è anche questa. Quindi, amici, questa era la mia recensione dedicata a questa, per me, stupenda action figure. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa action figure, di questa mia recensione, con un messaggio scritto o con un mi piace. Al prossimo video e come vi dico sempre, ma che cosa è?